Rotary, servire per cambiare vite. Servire è il verbo al quale chiunque decida di associarsi al Rotary Club deve prestare fede. È un'associazione storica, quella del Rotary, che dell'altruismo e dell'aiuto concreto ha fatto il suo portabandiera nel mondo. Conosciamo da vicino questa straordinaria e variegata realtà, diffusa in tutto il globo e il loro impegno a livello internazionale attraverso le parole di Raffaele Caltabiano, governatore del distretto 2060. Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie di questa possibilità di raccontarvi un pochettino che cos'è il Rotary International. Il Rotary International nasce negli Stati Uniti nel 1905 per l'idea di un giovane avvocato. Un giovane avvocato che aveva vissuto una vita da ragazzo, da giovane, nelle montagne del Vermont, in un ambiente di pace, diciamola così, e che poi si ritrova nella sua attività, all'inizio della carriera professionale, nella Chicago, di quegli anni che invece era molto turbolenta in tutti i sensi. E da queste differenze nascono una serie di idee che poi sono alla base di questa organizzazione, di questa associazione. È un'associazione che oggi conta più di un milione e trecentomila soci in giro per il mondo, che sono tutti accomunati dagli stessi ideali, dagli stessi principi che questo fondatore che si chiamava Paul Harris ci ha lasciato. Essenzialmente il principio di base è quello del servizio, del servizio a vantaggio degli altri, degli altri che siano le comunità locali o lontane. Un servizio che essenzialmente è basato sulle idee e capacità professionali di ognuno di noi. Essenzialmente è un'associazione di professionisti, milione e trecentomila persone sono dei professionisti in tutte le parti del mondo. La nostra organizzazione si organizza, lei ha citato prima, il distretto 2060. Il 2060 che è il distretto dell'Italia nord-est, quindi delle tre regioni, Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige e Veneto, è uno dei 14 distretti italiani ed è uno dei 535 distretti che in giro per il mondo organizzano le attività dei club, perché alla fine l'unità principale, la base di tutto è chiaramente nella nostra associazione il socio, il singolo socio, però più soci si raggruppano assieme in club che condividono gli stessi ideali e cercano di realizzare quello che gli ideali si propongono. Questo è un po' in sintesi cos'è il Rotary. Se entriamo più in dettaglio che cos'è il nostro distretto, il 2060, è un distretto che oggi conta 93 club distribuite su tutte e tre le regioni con circa 4400 soci. Ho piacere di fare una precisazione sull'argomento, perché in effetti le nostre, intanto siamo tutti volontari, questo è evidente, stiamo parlando in un ambiente di volontariato, ma lo sottolineo, il Rotary è fatto da persone che volontariamente entrano a far parte di questa associazione e volontariamente danno le loro capacità professionali di tempo per la realizzazione dei progetti. Questo lo si può fare anche all'interno dell'associazione, facendo funzionare l'associazione, quindi un'attività di servizio all'interno. Quindi noi abbiamo delle persone soci, io sono un socio, che quest'anno servirò il Rotary dal 1 luglio del 2021 al 30 giugno del 2022 come governatore del distretto. Ci sono altri soci che lo stanno facendo con altri livelli, a livello di club per esempio, il presidente o i consiglieri o i presidenti di commissione, diciamo che sono tutte attività di servizio anche all'interno per far funzionare l'associazione, cioè dedichiamo le nostre forze, le nostre capacità professionali per realizzare qualcosa. E noi lo facciamo ruotando ogni anno, Rotary significa anche questo, che tutte le nostre, diciamo, incarichi di servizio ruotano ogni anno. Quindi io servo i Rotary quest'anno come governatore, al 30 giugno mi succederà una governatrice, è la prima volta nel nostro distretto che avremo una governatrice donna, perché il nostro club, la nostra associazione, i nostri club sono aperti a tutte e a tutti i sessi. La Rotary Foundation, che è definita dall'attuale presidente, che è John German, un americano, che è stato presidente del Rotary International, il cuore pulsante del Rotary. In effetti la Rotary, è una parte essenziale della nostra associazione, è una parte essenziale voluta all'inizio del secolo da dei soci, con un primo versamento di 25 dollari. Bene, grazie a questa idea di mettere vicino, di raccogliere delle risorse finanziarie, oggi la Rotary Foundation in effetti è il cuore pulsante. Perché? Perché è in grado di alimentare tutti i progetti che i club di tutte le parti del mondo possono ideare e possono trovare nella fondazione gli adeguati componenti, le adeguali risorse finanziarie. Non è per noi essenziale, per i Rotary essenziale, finanziare il progetto. Per noi è essenziale trovare, avere le idee, dimostrare che le idee si possono realizzare utilizzando le risorse che abbiamo a livello di club, a livello di distretto, a livello internazionale, utilizzando la Rotary Foundation, ma poi soprattutto dimostrare dimostrare a chi ci guarda anche dall'esterno che questa nostra capacità può essere eseguita e abbiamo degli esempi molto importanti come quello della polio, se eventualmente avremo il tempo potremo approfondire, che dimostra questo modo di realizzare i progetti. Dunque, noi diciamo che abbiamo tanti progetti, abbiamo tanti progetti negli anni, il club hanno tanti progetti perché i progetti nascono dalle idee del singolo socio e credo che sia interessante per tutti ricordare come la campagna alla polio, che sicuramente è nota, è un'iniziativa che il Rotary ormai porta avanti da 30 anni e che non siamo ancora arrivati alla completa eradicazione della polio perché gli ultimi casi sono in Afghanistan e in Pakistan, dove sappiamo quali sono le condizioni in questo momento sociopolitiche, però paesi come l'India, l'intera Africa ormai sono state dichiarate libere dalla polio. Bene, la lotta alla polio è un classico progetto del Rotary, è un classico progetto del Rotary perché nasce dall'idea di un socio, 30 anni fa, un socio che non era un medico, era un socio che aveva un'impresa e produceva imballaggi, quindi tutto un altro settore, però aveva delle relazioni, conosceva delle relazioni importanti, conosceva Sebin e assieme a lui pensarono di realizzare una prima campagna sperimentale di vaccinazione e la misero in piedi, la provarono nelle isole filippine. Per fare questo ci volevano delle risorse finanziarie e lì intervennero i club, i soci, anche la fondazione, con una somma di allora, 30 anni fa, di 30 milioni di lire, non una cifra sbalorditiva, però la campagna nelle filippine dimostrò che la vaccinazione aveva senso, si poteva fare ed portava dei risultati positivi, non tutti ricordano quale potesse essere la situazione della poliomilite 30-40 anni fa. Bene, da questa dimostrazione partì una campagna internazionale, cioè il Rotary International decise di farlo diventare un progetto internazionale, a cui tutti i soci e i club parteciparono e partecipano, però la cosa essenziale di questa partecipazione è stato l'aver attratto finanziatori esterni. Noi abbiamo finanziato, sì, anche in maniera importante, ma molto parziale tutta questa operazione che ha portato alla vaccinazione 2 miliardi e 600 milioni di bambini fino ad oggi. Grazie, ed è stato possibile grazie all'intervento, alla capacità dei soci rotariani, ma anche al fatto che altre persone, per il primo Bill Gates, ha visto nel Rotary, in questa capacità di realizzare questo progetto di vaccinazione così di massa a livello mondiale, lo strumento per realizzare l'eradicazione della polio. Ecco, questo è un esempio tipico di quello che il Rotary è in grado di fare a livello locale e internazionale. Se poi vediamo a livello locale, perché mi pare che lei mi chiedesse appunto qualcosa in tal senso, la vaccinazione per noi non è qualcosa che è finita o è limitata alla campagna alla polio. La vaccinazione, il supporto alla vaccinazione è tuttora per noi e per il nostro distretto una attività estremamente importante. I soci del nostro distretto si sono attivati da subito quando si è manifestata a livello locale, diciamo locale in ambito regionale, provinciale, cittadino, dipende dalle condizioni di ognuna delle tre regioni del distretto, si sono subito attivati e impegnati sia come medici, sia come personale diciamo amministrativo, cioè persone di buona volontà e con capacità amministrative a coadiuvare nella campagna di vaccinazione tuttora in corso l'attività di vaccinazione. Abbiamo oltre 750 volontari costantemente impegnati, ma anche in questo caso è importante ribadire che i 750 volontari non sono tutti i rotariani. Un gran numero è costituito da rotariani, medici, infermieri, amministrativi, però molti sono persone che hanno visto nella nostra proposta, nella nostra organizzazione anche la modalità, una delle modalità, non dico che sia necessariamente la migliore, una delle modalità per contribuire alla situazione e alla necessità vaccinali in atto. La nostra attività diciamo per contrastare tutti gli effetti negativi di questa pandemia in effetti è iniziata immediatamente quando si sono manifestate le prime situazioni pandemiche che portavano a tutta una situazione di crisi di vario genere e quindi vari sono stati gli interventi nei primi periodi, prima che si iniziasse questa campagna We Stop Covid, così l'abbiamo chiamata, di supporto alla vaccinazione di massa. Abbiamo iniziato in effetti con degli eventi, degli interventi in emergenza perché come tutti ci ricordiamo la pandemia ha colto tutti impreparati all'inizio, le strutture sanitarie, tutti eravamo tutti singoli, noi eravamo impreparati. Bene, e questo l'abbiamo fatto sia al nostro interno sia verso l'esterno, più importante è quello verso l'esterno perché verso l'interno utilizzando gli strumenti telematici, informatici abbiamo mantenuto le nostre modalità di comunicazione, di connessione che però ci hanno permesso anche in quelle condizioni di lockdown per intenderci di ideare e realizzare dei progetti, progetti di emergenza, cioè a dire la raccolta di fondi anche utilizzando la fondazione, ripeto, in maniera significativa in tempi estremamente rapidi per intervenire con la fornitura di quella strumentazione di prima emergenza che era necessaria, per esempio le barelle, adesso non ricordo più il termine esatto, comunque quei dispositivi che consentivano il trasferimento delle persone colpite da Covid in sicurezza. Abbiamo fornito anche le mascherine per intenderci quando all'inizio le mascherine erano introvabili, abbiamo cercato con le capacità finanziarie che siamo riusciti a mettere vicino e con anche le relazioni, le capacità professionali e quant'altro di essere quantomai di supporto localmente alle necessità delle singole comunità, delle singole popolazioni e non vogliamo vantarci di questo assolutamente, però riteniamo di aver dato una mano importante anche nella fase di prima emergenza. Il servizio è sicuramente una, secondo me è una predisposizione umana, la capacità di un individuo, la predisposizione di un individuo a servire gli altri che gli sono accanto in tutte le situazioni, non necessariamente nelle situazioni di estrema crisi e anche nelle situazioni più banali. Quindi secondo me questa è una predisposizione umana che deve essere presente nella persona che in qualche maniera intende avvicinarsi al Rotary o entrare a far parte del Rotary. A questo elemento di base aggiungo due elementi che a mio parere costituiscono le fondamenta su cui si può costruire una partecipazione alla nostra associazione significativa e sono il rispetto e la tolleranza. Il rispetto degli altri, degli altri soci, perché ognuno di noi ha tutti gli effetti di una persona unica, io non utilizzo il termine diverso, io dico unico, perché ogni persona ha delle sue caratteristiche legate alla sua storia, alla sua storia familiare, professionale, ambientale, tutta una serie di fattori che ci rendono praticamente unici. Benissimo, quindi il rispetto uno verso l'altro è fondamentale e la tolleranza perché all'interno di questi nostri club chiaramente tante persone uniche hanno anche modalità di visione diversa, ma la tolleranza è l'elemento che ci consente di trovare la sintesi e di trasformare l'idea che può avere uno, uno dei soci e che non necessariamente è condivisa da tutti gli altri, può essere comunque trasformata in una realizzazione seguita da tutti. Bene, a questi che sono elementi di base si aggiungono altri fattori. È chiaro che lavorando insieme, trovandosi, noi abbiamo anche, non è solo una consuetudine, una delle nostre regole è quella di ritrovarsi settimanalmente per rincontrarci, per scambiare opinioni, idee, attivare idee, realizzare soprattutto queste idee in progetti concreti. Bene, da questo ritrovarsi può nascere anche l'amicizia. Sappiamo tutti che l'amicizia non è una cosa che si acquisisce entrando in un'associazione, ma è qualcosa che si può costruire tra gli individui, più facilmente forse, se si condividono dei valori. L'integrità, la diversità, la leadership, sono altri elementi caratteristici della nostra organizzazione, ma l'essenziale è quello del servizio, del servizio che si esplicita in quello che noi chiamiamo service, o meglio il termine inglese, difficile traduzione italiana che potrebbe essere inteso come progetto di servizio, cioè una realizzazione che permette, come vede nel motto alle mie spalle. Questo è il motto del Presidente internazionale, noi abbiamo un Presidente internazionale, quest'anno è un indiano e il suo motto è servire per cambiare vite. Quindi il servizio finalizzato alla miglioramento della vita non solo degli altri, ma anche di noi stessi, perché nel servizio noi possiamo trovare anche la concreta, in noi stessi, la concreta attuazione dei principi che professiamo. Sì, dunque per quanto riguarda la situazione vaccinale, noi continuiamo evidentemente nel nostro distretto a supportare la vaccinazione. In effetti nel nostro distretto abbiamo, come in tutti gli altri 14-13 distretti italiani, abbiamo in corso anche un progetto che ci è stato affidato dalla Rotary Foundation, che ha ricevuto dal USAID, che è un ente governativo americano, 5 milioni di dollari da utilizzare in Italia per combattere la pandemia. E con noi nel nostro distretto stiamo utilizzando una quota significativa di una parte, cioè di 300 mila dollari che ci sono arrivati, per equipaggiare le case di riposo pubbliche di strumentazione che sono dei concentratori di ossigeno estremamente importanti e utili in questa fase, ma che potranno anche essere utili nel seguito. Ecco, questa è un'altra delle valenze. Certi progetti, anche quello dell'Apolio che ci davo prima, è servito a mettere in piedi una rete internazionale che in questo momento sta in molti paesi dell'Africa, per esempio, e è utilizzata giornalmente per combattere il Covid. Per quanto riguarda, lei citava l'Afghanistan, il Rotary è presente in Afghanistan con tre club, a Kabul e a Derat, e questi club in questi anni, i soci di questi club in questi anni hanno realizzato, collaborando anche evidentemente alle organizzazioni internazionali presenti, hanno realizzato molti interessanti progetti. E pensiamo di poter continuare in questa strada, anche se in questo momento in effetti le informazioni e i contatti non sono molto chiari, come tante cose in questo mondo. però noi continuiamo. Un dato importante che abbiamo è che nel penultimo, adesso siamo a settembre, agosto, a luglio, nel mese di luglio era stato registrato un unico caso di poliomilite in Afghanistan. E in Afghanistan c'erano squadre di rotariani impegnate e ci sono, sappiamo, in maniera informale, ci sono squadre di rotariani tuttora impegnati nella lotta alla poliomilite. Quindi i Rotary cerca in tutte le realtà di portare avanti i progetti e di servire per la realizzazione di migliori condizioni di vita delle popolazioni.